Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su gran parte della Toscana, raccomandiamo di modellare le velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la mobilità in A1, rallentamenti e code a tratti, verso sud, tra B1 Variante e Calenzano, in carreggiato opposta, tra Firenze e Scandicci e Barberino. Ci spostiamo in Fipili per lavori, due chilometri di coda, tra Empoli e Montelupo, nella carreggiata verso Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza, con restringimenti, percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Per i stessi lavori, l'uscita di Montelupo è chiusa per chi proviene da Firenze fino al 16 settembre. Prima di salutarci, ricordiamo che da ieri è transitabile il quinto lotto della SR429 tra Dogana e Brusciana. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, un viaggio!